Il nuovo prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, è stato presentato ufficialmente alla stampa nel pomeriggio di oggi. Ferdani, 65 anni, toscano, originario della provincia di Massa Carrara, è subentrato a Giancarlo Di Vincenzo, trasferito alla prefettura dell'Aquila. Il nuovo prefetto, che oggi ha incontrato il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Antonio Caputo, nelle prossime ore incontrerà i rappresentanti provinciali delle altre forze dell'ordine e subito dopo convocherà il tavolo della sicurezza e dell'ordine pubblico. Ho visto che in prefettura è stato costituito una sorta di organismo che è attenzionato alle periferie, credo che sia assolutamente strategico mantenere questo rapporto, nell'ottica di garantire sicurezza, ma cooperare anche con gli altri soggetti istituzionali per eliminare o comunque rimuovere le situazioni di eventualmente degrado, di difficoltà, che possono poi avere riverberi ancora più importanti. Dunque massima attenzione alle periferie, dove lo spaccio di droga e di furti rappresentano i fenomeni maggiormente preoccupanti da arginare, ma un'attenzione particolare sarà riservata anche alla lotta all'usura e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Sicurezza sul lavoro è un tavolo strategico anche questo, perché l'attenzione a quello che è al mondo del lavoro e a garantire condizioni di sicurezza per chi svolge l'attività lavorativa, credo sia una priorità, una battaglia di civiltà del nostro Paese. Tra le altre priorità evidenziate dal prefetto Ferdani, la lotta è contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico locale e il fenomeno dell'usura. Direi che la criminalità organizzata dispone di ingenti capitali, quindi le istituzioni devono assolutamente operare anche in questo modo, congiuntamente con le forze dell'ordine, proprio per evitare che attecchisca questo sistema, che i cittadini possano essere imbrigliati e poi costretti a vivere nell'assoluta dipendenza di questi finanziamenti illeciti. È un segnale di illegalità che dobbiamo assolutamente combattere.